Un convegno organizzato dalla Scuola Sant'Anna per parlare di diritto di asilo, che valore può avere e quale contributo può portare la giornata di oggi? Io penso che la giornata di oggi ci dia dei segnali importanti. Il primo segnale è che gli allievi della Scuola Sant'Anna non si occupano solo di studio sui libri, di lodi e di esami, ma vogliono occuparsi dei problemi della quotidianità e vogliono applicare i loro studi, le loro ricerche e le competenze per affrontare temi come quello del diritto d'asilo. E credo che la risposta che viene oggi da questi studiosi che sono intervenuti sia una risposta importante e noi sollecitiamo il governo ad occuparsi di questo tema, che non è soltanto un tema che vediamo da lontano e che riguarda altri, riguarda noi. Quali sono le maggiori difficoltà del nostro paese oggi per i richiedenti asilo? Per quanto riguarda i richiedenti asilo diciamo che l'Italia si è adeguata alle direttive europee, dunque è la fase che presenta meno problematiche. Laddove invece c'è ancora molto da fare è nell'integrazione di chi ha ottenuto la protezione, perché spesso queste persone vengono lasciate a loro stesse e in quasi tutte le grandi città italiane ci sono rifugiati che vivono nelle case occupate senza servizi e questo rende impossibile per loro sia dare un senso alla protezione che hanno ottenuto ma anche rifarsi una vita. Dopo la sentenza del caso Irsi, dopo la sentenza per cui la Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia per la pratica dei respingimenti in alto mare, diciamo che abbiamo apprezzato che il Presidente del Consiglio e il Ministro degli Interni abbiano detto che si adegueranno alla sentenza. Certo è che però avremmo anche apprezzato un chiaro segnale di discontinuità con questa pratica, che è stata a nostro avviso una brutta pagina della politica migratoria italiana e questo segnale ancora ad oggi sembra non esserci stato. Con la sentenza Irsi la Corte Europea ha riconosciuto l'Italia colpevole per i respingimenti in mare del 6 maggio 2009. Quali sono le colpe che la Corte ha riconosciuto allo Stato italiano e quali le pene inflitte? La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ritenuto che il respingimento di massa effettuato il 6 maggio 2009 abbia esposto i migranti al rischio di essere torturati o sottoposti ad altri trattamenti inumani e degradanti in Libia, nonché al rischio di essere rimpatriati dalla Libia verso i rispettivi paesi di origine dove avrebbero rischiato la vita o trattamenti vietati. Sotto altro profilo la Corte ha ritenuto violato il divieto di respingimenti collettivi perché i migranti che sono stati presi a bordo delle imbarcazioni italiane non sono stati identificati, ne hanno avuto alcuna possibilità concreta di avanzare le loro domande di protezione e quindi di rappresentare alle autorità di bordo le proprie esigenze personali e è principio consolidato che i respingimenti non possano avvenire senza una valutazione specifica e individuale delle situazioni personali di ciascun migrante. La Corte ha dei poteri limitati a questo riguardo, ha condannato l'Italia a corrispondere alle vittime un risarcimento per il danno non patrimoniale sofferto nella misura di 15.000 euro ciascuno e ha altresì condannato l'Italia ad assumere ogni azione più opportuna al fine di assicurarsi che queste persone non vengano maltrattate, non vengano sottoposte a trattamenti degradanti in Libia né siano vittime di rimpatrio arbitrario dalla Libia verso la Somalia e l'Eritrea. Si trattava appunto di cittadini di origine, di nazionalità somale ed eritree.